Ciao a tutti ragazzi e benvenuto in questo nuovo videologo. Allora ragazzi vi voglio annunciare che il giorno 1304 2015 cioè fra due giorni farò un'altra sfida, lancerò un'altra sfida di Dragon Ball Xenoverse. Quindi ragazzi lunedì giorno 13 aprile ore 20 fino alle ore 21 farò una sfida. Quindi vi inviterò io alla sessione. Poi una volta ragazzi che io vi invito e poi dopo aver giocato una volta o due volte insieme a voi vi espello. Non vi arrabbiate perché toccheranno anche altre persone. Poi questo ne parleremo tutti sul TeamSpeak 3. Quindi mi raccomando ragazzi nonostante avere il gioco e giocare insieme dovete anche avere un programmino chiamato TeamSpeak 3 così possiamo parlare insieme e nello stesso tempo giocare anche insieme. Così sarà molto più divertente perché l'altra volta ci siamo divertiti comunque. Quello sì però voi parlavate e io no. Io registravo solamente col microfono e basta e voi non mi sentivate. Quindi adesso ho trovato una soluzione in cui noi potremmo giocare e anche parlare insieme nello stesso tempo. Quindi chi non ha TS ragazzi scaricatelo su Google scrivendo solamente download TeamSpeak 3 e poi connettetevi con il mio host, con il mio server praticamente. Fatto ciò poi potremo registrare la partita. Ma quello ci penso tutti io. Basta voi che vi connettete e poi ci penso tutti io. Ok ragazzi detto questo se avete delle domande da fare basta scrivermi sotto al video. Ok ragazzi stanotte lascerò il video carico un'altra serie di Dragon Ball Xenoverse. Quindi non vi preoccupate che domani mattina già sarà online. Io domani visto che è domenica il giorno 12 sì visto che caricherò fra un paio d'ore questo video. Non ci sarò tutta la giornata quindi sarò un po' occupato. Avrò degli impegni domani quindi sarà sarà per lunedì questa sfida. Quindi preparate ragazzi che lunedì sera chi vuole giocare con me può sfidarmi. Allora poi un'altra cosa delle novità su Dragon Ball sì ormai come noi tutti sappiamo possiamo finalmente superare il livello 80 però come avete notato l'esperienza è aumentata. Sembra che ce n'è parecchio per arrivare a 85. Questo non so se è il limite massimo 85 ma secondo me lo è. Se mi sbaglio scusatemi ancora ci devo arrivare. Io sono a livello 82 e quindi ce ne vuole di strada. Allora prima di finire il video mi raccomando ragazzi seguitemi anche su Instagram che sono lì seguitemi sempre come SpyDrock. Vi invito a connettervi ad essere su TeamSpeak3 che non l'ho ancora fatto. Ah e voglio anche salutare un mio carissimo amico che si chiama MalisiusCat. Ciao Malisius e complimenti per i 700 iscritti. Io lascerò qui sopra il suo canale. Quindi ragazzi cliccateci qui e andate a visitare. Se vi piacciono i suoi gameplay iscrivetevi al suo canale perché è veramente simpaticissimo. Quindi ciao Malisius e noi ci vedremo su TS. Ti aspetto. Allora poi saluto anche delle persone che... Allora saluto a Lucio Casaburi. Ciao Lucio. Saluto Alessio Foglia. Ciao Alessio. Saluto Nauro Labidi. Saluto Matteo Vergai. Saluto Emanuel091003. Ciao. E saluto il mio carissimo amico Rosario Corvietto. Ciao Rosario. Grazie per avermi lasciato fino ad adesso e tutti voi i commenti. E per il vostro sostegno ragazzi. Grazie mille. Sono veramente contento. Mentre ragazzi noi ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente un gameplay. Niente. Ciao. Ciao.